40 passi, l'omicidio di Antonella di Veroli, un call case che la stampa dell'epoca nel 1994 chiamava l'omicidio della donna nell'armadio. Come ti sei appassionato a questa storia? Ma questa è una storia importante che Roma ha seguito per moltissimo tempo, i grandi giornali di Roma l'hanno molto seguita, ma era passata la cronaca per il caso della donna nell'armadio perché la signora Antonella di Veroli fu uccisa e poi trasportata nel suo armadio, nascosta in questo armadio dove venne trovata due giorni dopo. Quindi con tutta una serie di tempi che l'assassino o gli assassini hanno avuto per potersi poi in qualche modo nascondere. Sono passati circa 20 anni ma non si sa chi è stato l'assassino. No. Si può dire che è un caso, che potrebbe essere un caso annoverato tra quelli di donnicidio? Sì, questo è in realtà un caso di femminicidio, possiamo dirlo così, nel senso più ampio perché non c'è l'assassino, o meglio, uno dei sospettati è stato processato, un processo lunghissimo e faticosissimo che è durato 7 anni ed è stato assolto in tutti e tre i gradi di giudizio. La signora era una donna che viveva sola, era una donna che aveva delle amicizie alcune palesi, altre forse misteriosi, ma è stata trattata secondo me male ed è questa poi la molla che mi ha spinto a parlare di questo caso. è stata un po' trattata male dai media che l'hanno un po' considerata come una donna in qualche modo che se la fosse un po' andata a cercare per il suo stile di vita, mentre invece scoprendo, facendo questa inchiesta, girando per i luoghi dove lei abitava, ho scoperto molte persone che ne parlavano molto bene e una mi ha colpito in senso veramente positivo, è stata quella la molla forse che mi ha fatto partire ed è stato quando uno dei suoi vicini di casa mi ha detto, mi ha detto cerchi di farlo questo libro, cerchi di curarla questa inchiesta perché è di tirarla fuori da quell'armadio dove è stata chiusa non solo fisicamente ma anche moralmente. C'è una mentalità tutta italiana quando viene uccisa una donna che si cerca di buttare un po' così una luce non troppo gentile diciamo, ma usiamo una parola carina, nei confronti di questa persona, magari se l'è andata a cercare come hai detto tu, ma magari era una persona che aveva frequentazioni strane. Ma secondo me, per la mia esperienza, quando si trova un omicidio di questo tipo, dove non c'è malavita, non c'è un motivo come dire palese, si cerca in qualche modo di scatolare il tipo di delitto in un delitto di un certo tipo, questo quasi a tranquillizzare le persone tra virgolette normali che dicono a me non potrebbe mai capitare, ma questa era una donna assolutamente normale, una libera professionista, una persona di successo, solo che non aveva famiglia, solo che non aveva marito, solo che aveva deciso di fare una vita completamente autonoma. Ma gli inquiretti stanno ancora indagando oppure il caso è totalmente chiuso? Il caso è chiuso, però un anno e mezzo fa i RIS di Roma hanno rianalizzato tutti i reperti, la richiesta del pubblico ministero in questo senso, e non ci sono ancora elementi certi, quindi a meno che non ci sia una grande sorpresa, forse questo sarà un caso destinato a rimanere chiuso. In questi vent'anni le tecniche investigative sono totalmente cambiate, quindi c'è una speranza? Sì, in realtà c'è una speranza, perché adesso dalle impronte digitali si può anche estrarre il DNA, cosa che nel 1994 non c'era, e può darsi anche che ci sia un lavoro oscuro fatto dal pubblico ministero e dai tecnici del RIS che magari porterà qualche sorpresa. Io me l'auguro perché credo che una donna uccisa in modo così barbaro come il racconto in questo libro abbia diritto a una giustizia anche a distanza di vent'anni. Per gli amanti della nera, per gli amanti dei gialli, ci sarà una presentazione il 6 dicembre a Più Libri, Più Liberi. Sì, Più Libri, Più Liberi, alle 18.45 presento questo libro con due relatori di eccezione come Valentina Grassi ed Ercole Rocchetti di Chi l'ha visto.